Presidente Mergiotti, inizia finalmente la preparazione atletica in vista del prossimo campionato di Serie D? Finalmente ci siamo, la squadra ha iniziato la preparazione, sul mercato stiamo lavorando, stiamo valutando diversi profili, abbiamo già la maggior parte per il 90%, la squadra è completa, dovremmo solamente fare qualche ritocco e stiamo valutando bene proprio per non sbagliare. Ecco, sappiamo che comunque il campo, lo Stadio Angelini del Chieti non sarà disponibile all'inizio, si andrà forse a Ortona o si diceva anche Città Sant'Angelo? Sì, lo Stadio Angelini necessita di lavori di miglioria della struttura e del fondo erboso e per questo motivo giocheremo tra Ortona e Città Sant'Angelo, le prime partite fino al mese di novembre, al massimo metà dicembre. Ecco, da matricola, quale sarà il primo obiettivo per questo campionato di Serie D del Chieti Calcio? A noi abbiamo un obiettivo, un programma, un progetto a medio e lungo termine, quindi quest'anno sarà sicuramente quello di fare bene, di fare un buon campionato, successivamente si valuterà di puntare a qualcosa di più e di riportare il Chieti entro l'anno del centenario nelle categorie che più le competono e le spettano. Ci sarà la possibilità di collaborare con altre società per la valorizzazione di giovani calciatori? Sì, abbiamo già avviato un progetto con la società del River sulla città di Chieti che fa parte del nostro gruppo societario. Stiamo facendo un grande progetto sul settore giovanile che ha l'obiettivo di avere una sola società sulla città di Chieti che gestirà tutti i giovani e tutti i ragazzi che si avvicinano al calcio.